Musica Tutti ragazzi qui Wolf E Jacopo Mi Continuiamo la sistemazione del nostro inventante E' un casino Allora abbiamo Terra 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 Ma cosa ci penso? Questa qua la puntata è a 16 no? Si Ecco abbiamo già in mente uno speciale per la puntata 20 Poi lo scopolerete Allora Oh abbiamo finalmente finito di sistemare tutta la nostra roba Allora Abbiamo fatto quasi tutto Dobbiamo mettere Ma la mia impressione o quello che c'era prima si sono rimpicciolite un pochettino? Cosa? E' più sparso Allora Adesso facciamo Com'è che era sotto il tavolo? Sotto il tavolo Sopra la Questo Poi ci facciamo la cassa Prendiamo ste assi qua No non ce ne erano Abbiamo già nell'inventario delle assi se non sbaglio Però c'erano delle assi Che fine hanno fatto? Vabbè Ah ecco infatti Allora ci facciamo un'altra cassettina Non ci bastano Non ci bastano Che rompino che sei però Scusate Scusate 59 e 6 Intanto vanno insieme No sono di legno diverso Eh si ma per costruire lo stesso per il gioco Si Questa è bella Allora Questa non la sapevo Ho trovato lì Se tu fai 6 Meglio Così almeno abbiamo La legna Oh questa è una buona notizia Ci facciamo No fanno ancora Altre due Le casse Altre due cassi Così siamo proprio super attrezzati Abbiamo altre due super casse E voilà Le notre danno Ecco Allora adesso sistemiamoci E andiamo a prendere i diamanti Che c'erano prima Allora Le assi non ci servono I semi non ci servono La cordicella non ci serve L'osso non ci serve Ma non è tutta Ah ecco infatti L'osso c'era già Adesso poi ci serviranno Tanti picconi Ma tanti Allora abbiamo la spada La bistecca Gli stivali le mettiamo qua Anche le brade Anche la sella Anche l'armatura di ferro Poi le due armature nostre Che non ci servono Due armature nostre Che non ci servono più Tutte le La selce C'è un po' lì L'ervoscelli La zappa Il pane ci serve Allora vediamo un po' L'ascia E c'è Qui abbiamo un piccone di ferro Un altro piccone di ferro Aspetta c'è anche la zappa L'ascia E due asce Che non ci serve Abbiamo la zappa Ce ne teniamo una E buonanotte No No non ci serve Non si sa mai La spada è ok Le asce non ci servono proprio niente Ok Il resto No Metti via un solo La carne marcia o il pane Per l'intanto abbiamo già le bracciole Mettiamo via il pane Tanto abbiamo già Un casino di roba Vediamo un po' I picconi adesso Un altro piccone di ferro No piccone di ferro No tanto non ci servono Per i diamanti si Si ma ce ne abbiamo due Ci bastano e ci avanzano Ah beh aspetta Aspetta Prendi ancora un piccone di Aspetta Un piccone di pietro Si E poi prendi un piccolo Di piccone di ferro Mezzo andato E intanto lo finiamo Giusto Sostituo Prendiamo anche questo Che usiamo per primo Anzi Ok così E poi prendi anche Una spada in oro Un attimo Ahia Dove cazzo è? Attiva Ah no Perché mi sa che è giorno Quindi sta Sali E giorni E a qualche punto Allora togli il braccio Allora Vabbè Poi andiamo a prenderlo Allora Abbiamo detto Ci serve un'altra spada in oro Spada in oro Ma no Tanto abbiamo già Quella di ferro Ma no Tanto la finiamo Giusto Allora Mettiamo giù una spada di ferro E prendiamone una di oro No No Cioè teniamo anche Un'altra spada di ferro Vabbè Ciao Facciamo così Siamo a posto No lo aspetta Adesso organizziamo Allora adesso E Si Allora metti Vabbè da Ok Così Da mangiare Ok Metti la spada d'oro Anche La spada d'oro Ok Basta Adesso Siamo pronti Per tornare giù Dove c'era quel buco La Abbiamo preso Aspetta Perché Non si va mai in miniera Di solito Se non si ha Un po' di terra E' una legge Il ferro Se ti prendiamo Tanto Ce l'abbiamo Sulla strada Allora C'è del ferro Ci sono dei creeper Vedo C'è Io ti aspetta Perché più avanti Mi sembra che lì Per andare avanti C'era del ferro Là ci sono dei diamanti Lì c'è un creeper Eh Dice del ferro Lì c'è del ferro Allora Di ferro ne abbiamo ancora un casino Quindi non stiamo a perdere tempo Direi di andare a prendere I diamanti e il creeper No meglio i diamanti Soprattutto i diamanti Però anche il creeper fa comodo I diamanti sono là Sì Quindi direi di scendere qua Sono là e là Ok No ce ne sono i più vicini Lì Quelli sono i più vicini che abbiamo Quindi scendiamo Mai Mai cosa Ci troviamo già giù Allora abbiamo detto che i diamanti sono Lì Lì e lì Ok E poi aspetta un po' Aspetta questo qualche Un pochettino più avanti Noi iniziamo a scendere E poi vediamo Oh il ferro Vabbè se ti prendiamo il ferro Tanto che ce l'abbiamo in strada Cioè ci passiamo di fianco Giavanti lì Sì Lì e lì Allora No tanto non ci serve Ce n'è fin troppo Ok No lì sotto ci sono dei diamanti Lì Lì Ottimo Bravo Osservazione acuta Posso Pietra rossa Non ci dovrebbe servire No aspetta Dovrebbe essere Sì Pietra rossa Intanto non ci serve Scegliamo ancora di uno Ok Cioè la pietra rossa Si serve per fare I congegni Sì Però visto che non ci servono I congegni Adesso E gente Abbiamo i diamanti Allora Ferro Piccone di ferro Già che ci siamo Tanto qua ci siamo davanti Tanto poi dobbiamo andare di là Per prendere i nostri diamanti Ok Piccone di pietra Vediamo un pochino No indietro Erano No vai di Mi sembra di Che significa Allora facciamo così Sali un po' Eccolo lì Lì Sì allora Prendiamo quelli sotto E poi saliamo Appunto Come conviene E poi Faremo finalmente Avremo abbastanza diamanti Per fare Per andare a prendere L'ossidiana E per fare magari Una bella lotta A torso nudo Di notte Cioè Non a torso nudo Non esattamente A torso nudo No al pvp Poi lo facciamo dopo Adesso cerchiamo Di prendere qui Di diamanti possibili Tanto che siamo qua Appunto Tanto qua Di salire Non sarà un problema Seguiamo le nostre braccia Ecco Oppure scaviamo Un bel tunnel Verso l'alto Tanto adesso Collecierei Qua Anche la minimappa Allora Qua Vabbè Non si prende Quelli che sono Di più vicini Che abbiamo attaccati Vediamo Qua sono Ok C'era anche uno Lassopra Ho visto Ok Poi abbiamo Sotto 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 E sotto Sì anche lì Allora sotto No usa il diamante Usa dietro Adesso cadiamo fuori Dal mondo Si rompe la bandro Proviamo col piccone di diamanti Che ci faremo No Secondo me lo scone Che basta Non ci sa mai Lo troviamo E se poi Cadi fuori dal mondo Ecco 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 Allora A questo punto A meno che È il video La moneta Fly Funziona anche No Sì Però C'ha dei lievi problemi Allora Risaliamo E cerchiamo Altri diamanti Che due pagli Che due pagli Che due pagli Ok Allora Vediamo un po' Diamanti Diamanti Io sono convinto Che adesso Finiamo dentro il buco Che abbiamo scavato Qui Si può essere Tanto non ci sarebbero Problemi Allora Diamanti Ci sarebbe un po' È tanto bello Cadere in un buco Poi avremo abbastanza Ferro e diamanti Per vivere Senza più picconi Di Solo quei picconi Ferro e diamanti Cioè Non useremo più Quelli in pietra Che ormai Sono roba Napoderato Perché noi siamo Snoop Come gli inglesi I francesi Ok Un po' come adesso Quando stiamo registrando Questo video Naturalmente Lo ricaricheremo Comunque È appena La Fiat È appena passata In Olanda E se voi ci pensate Questo qua È una comodità Perché ad ora un po' Gli autobuti Li faranno gli olandesi Si Allora A questo punto Vediamo Aspetta Ho due calcoli Quattro per questi Per i gambali Sono Sei Quindi otto E poi ci avanza Quel che ci basta Per i picconi E la spada Ce ne avanzano altri otto Ok Risaliamo Magari Prendiamo ancora qualcuno Di diamante Vediamo un po' Lì Sento rumore Lì Eh no Aspetta Aspetta Anche lì Si ho visto Allora Quella lì No Allora Quella lì a sinistra È più vicino E poi andiamo In quello a destra Dov'è che erano? Qua Per attività Bisognerebbe Suggerisco Per chi fa La X-Ray Fare La X-Ray Selettiva Cioè che tu scegli Cosa vedere A seconda del tasto Che premi Magari Sarebbe molto comodo Magari scopriamo Che esiste E non siamo Conosciti a capire Come farla a partire Oh Lasciamo pelle Quei 3-4 diamanti Che là Ce ne sono molti di più Ma no Anche dritto Anche dritto Ce ne sono Dove? Qua Si Quindi andiamo Iniziamo con l'andata Questi qua Che sono i più vicini A 10 cubetti Dalla fine Del mondo Potrebbe essere Dietro La pizza Rosso Ok Si Per chi Magari Non lo sapesse L'unico modo Per morire In modalità creativa È cadere Giù dal mondo In No No Puoi anche Se vai nel nether Muori Praticamente Quando cadi Nella lava Non puoi più risalire Neanche con la fly Quindi Praticamente Sei costretto A passare Se vai nel nether Eh Se vai nel nether Se è coglione Allora Ancora Non volevamo andare nel nether Noi ci andiamo nel nether Mi sa che è sotto Ma sotto Io devo ancora capire Chi è quel genio Che decide di mettere I diamanti così Minecraft Poi scaviamo Un bel buco Verso l'alto E torniamo in casa Con la fly È giusto Tanto il nostro cunicolo Sotterraneo Poi si sponeranno Un casino di mob Qua dentro Così la prossima volta Che torniamo Non abbiamo neanche bisogno Di cercarli Ma chissà Secondo chi ha creato Minecraft Cos'è che gli ho fatto Inventare i creeper I mob Eccetera Cosa ha pensato Quando li ho fatti Ti sa Ha detto Boh Facciamo qualcosa Facciamo un gioco Che lagga da bestia Che poi il lag è stronzo Perché ti fa buttare via Il piccone Stai un attimo No Fa una cosa Ecco Prendili No Con le polveri Lasciali Perché No Vai indietro C'è ancora uno Così siamo sicuri Che ce li da Ok Ok A questo punto Basta Saliamo Vai indietro C'è ancora quelli Vabbè Prendiamo anche quelli Già che ci siamo Sta iniziando A laggare Come una bestia E intanto adesso Poi finiamo Quando finiamo Il video Quando usciamo E siamo in superficie E finiamo il video Buonanotte No Ma facciamo un po' Perché Comunque io l'ho Aperto in ritardo Il timer Quindi lo sappiamo A quanto tempo è Che ci stiamo registrando Ma sono dettagli Teplici Sta iniziando Proprio a laggare Come una bestia Roba che devi rompere I cubetti Cinque volte E dire che Sto qui Dovrebbe essere Un pc potente E ma su windows 8 Ecco Windows 8 E allora Ancora Colpicone in ferro Sempre mi raccomando Non fate Il mio errore Cercando di romperli Col Magari con un pezzo di ferro L'ingotto Ok Ok Non ci dovrebbe essere Più niente Ok Adesso Adesso risaliamo In superficie 37 di diamante Adesso troviamo La ghiaia che ci butta a terra Siamo dei problemi Di fare queste cose qua Dettagli Wow Non serve a niente Non serve a niente Lo useremo qualche magari per ricurare la casa Quando proprio non ci abbiamo fatto Non lo devo fare Ma ce n'abbiamo da fare ragazzi Ce n'abbiamo da fare Lava Adesso inizia a scendere la lava da qua Mi affermo Che non ci serve Continuiamo a salire Sempre verso l'infinito e oltre Ragazzi Ricordiamo che in nostri video Sembra tutto facile Ma in realtà Si vedrebbe così Giusto Giusto per ricordare Questo piccolo problema Finito il piccone Se ne fa un altro Controlo lo stato della lava Eh appunto Oh ma non ci sono problemi Oh risaliamo proprio sopra Le nostre piantagioni Quindi Non molto distanti da dove La lava non dovrebbe infastidirci L'unica cosa che temo È la ghiaia Che se ci fa cadere da questa altezza Non so cosa potrebbe succedere Ecco Diciamo che mi incazzerei leggermente Sì la cosa migliore sarebbe Scavare un buco in fianco Di due Di due Due per uno Ma va E ci scappi dentro Siamo un po' in alto Ma è giusto 20 cubetti Quello che si Uffa Quanto stiamo in basso Gente i nostri video Sono tutti Scendi nella miniera E poi scava E poi scava un buco Verso l'altro E funziona Sarava Boh Diamo fine a sto piccone Inferro Che tanto ci ne abbiamo Un casino Perché Sennò Vi infora una roba Lentissima Oh è vero Se in scollisere Così è diventato Meno avventuroso Eh sì Per la prima volta Che aveva scavato La miniera È stato un video assurdo Voila Ripaghiamo il prezzo Del ferro Del piccone di ferro Tre Sì vabbè Non ripaghiamo in parte Il resto Ci è servito No guarda Più contenti Così Ok Allora No scava pure Prendi il mio pollio No ma va Dettaglio Perché non riesco a salire Ok Che sei stupido Ormai dovremmo quasi esserci Ma scusa Se noi entriamo In fianco A nostra casa Ci sono le montagne vicine Meglio Non è che saliremo Meglio Se saliamo direttamente In cima alla montagna Ci divertiamo Creeper Sopra casa nostra Cos'è quel coso Lì Marrone Ah no Sono C'è qualcuno Ci sono dei mostri Dentro la nostra piantagione Ma magari sono sopra Ah no Perché sono sopra A livello delle torce Giusto Però il creeper ci serve Se riusciamo a prenderlo in tempo Ma il creeper non muoiono Busciati No infatti Mica ho detto Che lo accendiamo Con l'acciolino Che poi dovremmo farcelo Che bello Divertentissimo Fare questo giochetto Con l'arenaria È bellissimo Perché quando trovi L'arenaria Di solito Trovi anche la sabbia Ed è un divertimento Unico Ma noi siamo Intelligenti Forse Quindi Preferiamo Sprecare più roba Che Rischiare di perdere La vita Ok Preferiamo salire Così gente Ormai Ormai siamo quasi Eh sì ma buoni Visto che c'è la La montagna Noi scaviamo per così Non è tanto possibile Noi scaviamo per così Così anche meno pericoloso Giusto Allora Proprio piccone Era così giovane Aveva soltanto 20 cubetti di anni Allora Adesso come vedete Si rompe molto più velocemente Quindi è meglio per noi E inoltre ci facciamo anche E inoltre ci facciamo anche l'arenaria Che non serve a un cazzo Però fa niente Ma schiacciate Moritz Vediamo un po' dove stiamo Ormai dovremmo quasi essere sbucati fuori A qualche parte Eh sì È davanti Punto Sperando di non morire qua Ok Scava giù No no Aspetta È uguale Ok adesso richiudiamo direi All'italiana mi raccomando Eh sì Facciamo due Così non sembra neanche Così sembra meglio Voilà E siamo tornati a casa Dopo un piccolo viaggetto Dobbiamo capire solo in che zona Ok ho capito in che zona siamo Quindi chiudiamo anche il buco Qua già che ci siamo Con la terra Perché così non si vede niente No Magari facciamo tipo così Perché è giusto per essere Aspetta vai un attimo È un più che usco qua Giusto Towa Non si vede più che sia il buco Il problema è che abbiamo otto Vabbè Sì abbiamo rotto l'acqua infinita Adesso la rifacciamo dopo Anzi la rifacciamo subito Tanto non ci vuole No aspetta Tagliala Allora Uniamo i diamanti Cos'è che dovevo fare Cos'è che dovevo fare Il secchio giusto Un secchio Un secchio Portiamoci indietro Poi Tanto chi se ne frega Allora Facciamo la cosa dei secchi Che mi pare molto utile Due La prendiamo da qua Voilà E nessuno si è accorto di niente Acqua Adesso fai la cosa Taglia il Adesso Qua Deci spugliamo Giusto mi sono chiuso la porta Deci spugliamo Facciamo prima Se usiamo la spada No non mi fermo Usiamo pure il piccone Tanto chi se ne frega Deci spugliamo Direi Poi ci dobbiamo Aspetto Ok Poi ci dobbiamo anche Fare la falco Gli animali Si Alla prossima Facciamo un po' di pvp E poi Così abbiamo la polvere a sparo Per la miniera Nel caso Ci dovesse No Prima facciamo La famiglia di maglia Quindi ripiantiamo tutto E poi chiudiamo questo video Dobbiamo essere più o meno Dei tempi Più o meno Più più o più meno Che cacchio è successo Stai volando E' strano Non ho attivato la fly Sto facendo due volte Velocemente Vabbè Strano perchè Con la F Di solito si può disattivare Vabbè F sta per fly Sono diritto Il dottor culo cane Il dottor culo cane Un giro Sto indietro Che sei diventato qualcosa Infatti Anche qua E anche qua I diamanti amanti Ok qua non c'è niente Intanto Dopo ripiantiamo Abbiamo quasi finito Un'unica cosa scomora lì Della falco O la devi un pochettino seguire Dettagli Sì no Sì no è che stavo guardando Se c'era qualcos'altro Invece la farm Gli animali Non devi proprio per niente Seguirla Soprattutto come La faccio io La faccio io Sì eh C'è qualche buco Vedo Soprattutto come la faccio io Fattendo No scusa Cominciando qua Sei voluto una torta E poi magari faremo anche un bel allevamento di meloni e di canna da zucchero Così coltiviamo anche le canne Oggi è attivato Ho dimenticato un buco No no è che non cresce dove c'è la torcia Sì cresce No non puoi proprio piantarla dove c'è la torcia Vedi Mi sembra che l'abbiamo messa così bassa Ma vabbè fai niente Perché tanto se la metti più alta non cresce Si ferma dove c'è la torcia Cioè è un ostacolo Che cavolata Grano E Sì mi no Grano Abbiamo quasi finito gente Ah ecco Mi pariva strano Allora aspetta Quando dobbiamo fare la farm Ho sentito No L'island Appunto Un creeper Che bello avere un creeper qua sopra Poi andiamo a salutarlo No poi la prossima puntata Gioco io Però prima allora Andiamo a salutare il signor creeper No aspetta Poi lo saluto io No lo saluto io Perché tu lo fai esplodere Io invece riesco a farlo A luciderlo senza farlo esplodere Mettiamo via la roba Ci facciamo la roba in diamante E poi chiudiamo sto video Che bello a tutti Allora Ci mettiamo No no aspetta I semi I semi Tieni Cosa Tieni i semi Perché Poi lo vedi Poi lo vedi Poi lo vedi Poi lo vedi Teniamo i semi Ci facciamo Anche i quelli di 5 Cosa Ci dai un 5 3 Ah 5 Ah è poco la lì Poi lo prendo dopo io Facciamo Presi Facciamo No che cazzo è Che sta facendo Allora Abbiamo detto Che ci facciamo I gambali Cioè Gli stivali E i gambali Poi alla fine Sono stessa cosa No Si Poi ci facciamo Un bel picconcino In diamante Che fa comodo Per l'ossidiana E una bella Spaduncola in diamante Che ci servirà Per la prossima PvP E poi tutto l'altro Ce lo teniamo Per sicurezza Quindi Mettiamo la roba dentro No allora Prima Ci mettiamo l'armatura E vuola gente Siamo completi Poi Ci mettiamo I diamanti E Il ferro No vabbè Col ferro aspetta Il ferro aspetta Mettiamo l'armatura Si Vediamo un po' eh Così Quindi Grazie a studiare Di chiudere qua Bella a tutti Da Wolf E da Jacopo Ma con la cavolo